Gentili telespettatori, buona giornata. Dario Vergassola dice qui Meloni è al 40%. Da questo si può fare un certo tipo di riflessione. Dario Vergassola, comico e voce irriverente della TV, si racconta in un'intervista a Repubblica. Parlando delle prossime lezioni tra ironia e riflessioni, Vergassola spiega come vede lo scenario del voto dalla sua prospettiva. Il bar fuoricampo del quartiere Rebocco, alla Spezia. Tra gli avventori qui la Meloni è data al 35-40%. Poi aggiunge sì, ma c'è tutta una zona grigia insospettabile che si capisce che voterà per lei. Quelli che stanno al bordo del bar e che guardano gli altri giocare a carte, i silenziosi, gli indecisi, quelli che hanno paura a dire voto per quel partito, hanno paura del giudizio degli altri. Il giudizio degli altri. Ah, tu voti per... Ah, allora tu sei uno di quelli lì. Ah, ma mica l'ho capito che tu eri un... Ecco. Quindi molti non dicono il voto come negli anni 90. Allora, negli anni 90 Berlusconi aveva il 40%. Quando io chiedevo in giro, ma tu hai votato per Berlusconi? No, no, ma scherzi. Ma cosa ti passa per la testa? Ma tu voti Berlusconi? Ma figurati, ma come... Ma cosa dici? Ma mica si può votare per quello lì? Aveva il 40% ma nessuno lo votava. La gente lo votava di nascosto perché si vergognava a dire che votava Berlusconi, perché Berlusconi non era di sinistra e quindi se tu non voti sinistra vieni giudicato un po' un sempliciotto, uno da bar, uno che non ha capito niente della vita, no? Un po' razzista. Se tu voti per il centrale sei un razzista e poi sei uno che non ha mai aperto un libro in vita sua. Dai, fammi una frase in italiano, vediamo se sai la grammatica. Ecco, quindi le persone si sono sempre nascoste. La vergogna di dire voto centrodestra, perché insomma che figura ci faccio se dico voto centrodestra, no? E oggi è la stessa cosa, a parte i sondaggisti che modificano i sondaggi per far piacere a questo o quel partito. Sono sicuro che alle elezioni vedremmo dei risultati che saranno assolutamente diversi da quelli che oggi ci propinano nei sondaggioni. Saranno sicuramente diversi e credo che, in base a quello che vi ho appena raccontato, credo che il centrodestra avrà molto di più di quello che oggi viene detto. Secondo me supererà il 50%, proprio perché il partito di Giorgia Meloni, secondo me, è sottostimato. È sottostimato perché, a parte che lo sottostimano i sondaggi, e poi c'è tutta questa area di persone che lo voteranno ma non dicono niente perché sennò poi vengono giudicati come quelli là, come dei nostalgici. Ma la maggior parte di quelli che votano Meloni non sono nostalgici del ventennio. Ci sono, ovviamente, come sapete all'interno c'è la fiamma tricolore che richiama l'MSI, l'Alleanza Nazionale, quindi c'è uno 0,5%, 1% su quel 24-25 che ha. Quindi un elettore ogni 25 che vota Fratelli d'Italia sarà un nostalgico, ma gli altri 24 su 25 votano Fratelli d'Italia ma non ci pensano proprio alla nostalgia. Molti di quelli non lo dicono che votano per Giorgia Meloni per non essere additati da parenti, vicini, conoscenti. Ah, tu voti, ma tu allora sei uno di quelli. Avete capito? Sei uno di quelli. Invece no, votano non perché sono uno di quelli, ma perché hanno riscontrato che alcune caratteristiche nel programma, eccetera, eccetera. Anche perché oggi si vota il meno peggio, attenzione, oggi non è che si vota il migliore, oggi si vota il meno peggio, il meno peggio. E' per questo che molti dicono non vado a votare perché io non vado a votare il meno peggio. Quando ci sarà qualcuno degno di essere votato lo voterò. Però quel non andare a votare è comunque una sconfitta perché voi non date... cioè il vostro non voto va a favorire quelli che voi non volete votare perché non ripetenete opportuni. Quindi il non voto alla fine è un voto che va a vantaggiare sempre le stesse cose. Quindi forse è meglio cercare di votare il meno peggio che non votare perché non votando magari vi mettono veramente il peggiore di tutti. Ecco, questa è la differenza. Quindi ha assolutamente ragione questo Dario Vergassola. Alle elezioni ci sarà... troveremo delle percentuali che non immaginavamo. Poi parla proprio di Giorgia Meloni non manca il consueto... le consuete stoccate che arrivano dalle parti della sinistra e da parte di chi come Vergassola ha votato 5 stelle. Dice ho conosciuto la Meloni, una persona sensata quando non urla che è donna cristiana eccetera eccetera. Bisogna vedere se poi per cambiare gli ingranaggi del paese userà l'olio normale o quello di ricino. Quindi ha fatto la sua... ha dato la sua contro il centrodestra. Poi ce l'ha anche col Movimento 5 Stelle che dice il Movimento 5 Stelle è come uno che sta pescando da qualche parte ma con maglie troppo larghe. Infatti raccoglie poca roba. È come se fosse già il passato. Insomma, a quanto pare il capolavoro di Grillo e di Conte è compiuto. Far dimenticare a tutti il Movimento 5 Stelle che, attenzione, avrà ancora un bel po' di votanti. Perché? È il voto di scambio, signori e signore. Chi ha il reddito di cittadinanza tenterà il tutto e per tutto per salvare questo suo stipendio statale. Votiamo 5 Stelle sperando che vadano al governo con la sinistra in modo che se la sinistra va il governo con i 5 Stelle il reddito di cittadinanza è salvo per altri cinque anni. Questa è la speranza dei fruitori del reddito. Votiamo 5 Stelle sperando che si alleino ancora con la sinistra e sperando che vincano le elezioni. Se no dovremmo alzarci dal divano e cominciare a uscire di casa per andare a cercarsi un lavoro come si faceva prima del 2018-19. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti o meglio. Ci vediamo domani mattina a questo punto. Credo che questo sia l'ultimo video della giornata. Grazie a tutti e arrivederci e grazie.